Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, qualche problema sulla Firenze Mare verso Firenze? Ci sono rallentamenti e code per traffico tra Prato Ovest e Firenze Ovest, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Chiesina Olsanese e Pistoia. Verso Pisa un chilometro di coda per lavori tra Pistoia e Montecatini Terme. In Fipilì verso Firenze ci sono code per lavori tra Montelupo e Ginestra e per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandici. In carreggiato opposto rallentamenti per perdita di carico tra Ginestra e Montelupo. Prima di salutarci ricordiamo che sono in corso lavori al sottopasso di Viale Talenti a Firenze. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! 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 Grazie!